ciao amici oggi siamo al poligono di como che gentilmente ci ospita per le nostre prove di tiro per adesso siamo solo noi due grazie al cielo è mezzogiorno e trenta per cui la gente ha le gambe sotto al tavolo e noi abbiamo le gambe sotto al bancone di tiro proviamo la Diestet Alfa Wolf in 5,5 una carabina dotata di scatto elettronico con tutti i settaggi che si possono fare che valgono per la lunghezza della canna la pressione esercizio il peso del pallino che andiamo a usare eccetera eccetera sono funzioni molto avanzate la carabina per un'utenza un po' più esigente diciamo così adesso vediamo le prove di tiro col pallino classico il gsb l'exat normale che tutti conosciamo in questo caso è brandata ai rams per questioni di comodità in casa abbiamo questi perché distribuiamo quel brand ma il pallino è veramente sempre lui ed è veramente buono facciamo una prova di tiro per vedere la rosata e dopo ci confronteremo anche con altri pallini a presto 5 colpi per il test di rosata decisamente buono 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 considerando il fatto che io sono un pistolero e non un carabinista e volutamente uso questi supporti morbidi uso dei rest fermi non faccio l'extreme bench rest all'americana faccio una prova di tiro popolare fra virgolette che tutti possono fare direi molto buono quattro colpi sono uniti uno è leggermente staccato ma siamo nell'ordine dei dei pochi millimetri forse 20 mm poi andiamo la col calibro e lo misuriamo bella i power ball si comportano davvero bene su questa carabina si comportano bene con una velocità di 800 piedi e quindi relativamente lento relativamente veloce relativamente vuol dire un un po come ti pare però è bella è una bella rosata e piacevole anche la sensazione che dà l'arma perché la palla pesante da una spinta diversa non è violenta la reazione è molto bella approvedo dai state alfa wolf abbiamo fatto una prova di tiro prova di rosata ottenendo la miglior rosata quei pallini gsb marchiati ai rams perché sono quelli che noi distribuiamo quindi sono i diavolo fil da 1037 la carabina si presenta con un caricatore da dieci colpi in alluminio con la molla di precarica è quella con lo scatto elettronico evidentemente quindi abbiamo poi il display che ci indica tutte le funzioni che noi possiamo andare a scegliere fra quali il peso della palla la lunghezza della canna e determinare di volta in volta tutti i settaggi che andiamo preferire nascono e muoiono con i pallini gsb più o meno tutte le inglesi lei non è differente dalle altre soprattutto con la canna da 23 pollici la rosata migliore ottenuta dopo una buona selezione di pallini è un bel rodaggio anche della canna perché nuove vanno un po pulite si ottengono 21,3 mm per 18 21 per 18 quindi circa due centimetri quadri a 50 metri qua siamo in un campo di tiro omologato vts quindi 100 metri sono reali ed è un bel prodotto per fare il plinking ad alto livello e con la selezione di pallini giusti fare anche le gare di bench rest ricordiamo che nascono per il pest control quindi sono armi cui è ricercata più la potenza che non la precisione intrinseca come sono le armi da bench rest però questa si può prestare anche a fare le gare di extreme bench rest dove è un po più grande il cerchio da prendere ed è più facile arrivare al 10 ricordiamo che la slitta da 11 alloggia il porta ottica weaver e può andare avanti indietro per trovare la miglior distanza interpopillare nello specifico oggi abbiamo usato una optics con una visuale eccellente eccellente davvero è un bipode di quelli entry level che fanno benissimo il loro dovere è un'arma che ha tutte le valenze per essere presa e divertirsi tanto